Una ricerca minuziosa attraverso biblioteche, archivi musicali, documenti teatrali e persino tra le cartelle ospedaliere. Un impegno certosino per raccontare la storia bella e drammatica di Giuseppe Dell'Orefice. Il libro, firmato da Elsa Flacco, è dedicato alla musicista e direttore d'orchestra abruzzese, protagonista della scena napoletana dell'Ottocento. Quello di Dell'Orefice fu un canto intensissimo, ma breve, interrotto dalla morte prematura avvenuta in manicomio. La figura umana e artistica della musicista racconta Elsa Flacco, già autrice di una bellissima storia su Francesco e Tommaso D'Acelano, si è pian piano delineata. I suoi successi, le delusioni, gli entusiasmi, il dolore, la malattia, la morte solitaria mi si sono incollati addosso, diventando dolce e malinconica compagnia. Diciamo che il tentativo di riscoperta di Giuseppe Dell'Orefice passa anche attraverso la riscoperta delle sue opere. Giuseppe Dell'Orefice è un musicista abruzzese, nativo di Farafilio Rumpetri, in provincia di Chieti, però è stato attivo a Napoli per tutta la vita ed era una celebrità ai suoi tempi. È stato direttore al Teatro San Carlo per ben cinque anni ed è autore di molte opere, sia strumentali, concerti, vocali, romanze, in particolare di due opere liriche, La Romilda dei Bardi e Legmond, che lo avevano fatto ritenere dai critici contemporanei, anche molto autorevoli, la promessa dell'opera lirica italiana, se poi un destino maligno non si fosse accanito su di lui. Purtroppo una serie di circostanze che non voglio neanche rivelare, perché spero che possiate leggere la biografia, lo hanno portato appunto a purtroppo a privare Napoli e l'Italia di un talento veramente geniale, perché così era considerato. Nell'Ottocento l'arte dall'Abruzzo e gli artisti, sia nella vittura sia nella musica, in questo caso si spostavano a Napoli, c'era molta connessione. Poi però sono rimasti, come dire, patrimonio della campagna, più che dell'Abruzzo. Sì, infatti anche Giuseppe Dell'Orefice nel suo paese natale, da alcuni anni diciamo è ricordato anche con un premio a lui intitolato e adesso i suoi pronipoti insieme con il direttore d'orchestra Maurizio Colasanti, che è l'amico appunto che mi ha fatto conoscere Giuseppe Dell'Orefice, cioè stanno portando avanti appunto quest'opera di riscoperta, perché vogliono restituire Giuseppe Dell'Orefice anche all'Abruzzo, oltre che a Napoli. Per tutta la vita non dimentico mai l'Abruzzo, infatti l'ultima sua direzione, quando già era alla vigilia della malattia, è stata proprio al Teatro Marrucino, per cui insomma è importante che l'Abruzzo riscopra questo personaggio che naturalmente ha però un respiro nazionale almeno. Giuseppe Dell'Orefice